In diesem video geht es um Zeitangaben und vor allem um die preposizionen der Zeit. Le preposizioni di tempo sono soprattutto al caso dativo. Le più importanti sono an e in, che poi diventano am e im al dativo, che vengono usate. Allora, am più dativo per il periodo della giornata, per esempio am Morgen, am Abend, e poi abbiamo i giorni alla settimana, am Montag, am Dienstag, e per la data am Zwölften Mai. In più dativo invece per i mesi, per esempio in Januar, e in più dativo anche per le stagioni, im Sommer, im Winter. Mesi, stagioni, giorni alla settimana e periodo alla giornata sono praticamente quasi tutti maschili. Quindi abbiamo detto am per il periodo della giornata, quindi am più dativo, sono sempre maschili per la giornata, per cui è sempre am. Am Morgen, am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, am Abend, am Tag, quindi al mattino, al mattino prima di mezzogiorno, quindi a mezzogiorno, am Mittag, al pomeriggio, am Nachmittag, am Abend, alla sera, e am Tag, quindi durante la giornata. Se aggiungiamo ad esempio delle particelle come dimostrativo, dovremo poi declinare il dimostrativo, quindi an diesem Tag, mentre se usiamo l'aggettivo next, dovremo mettere am nächsten Tag, che sarà appunto il giorno seguente. Il giorno precedente invece è am vorigen Tag. C'è un'unica eccezione, perché è femminile, innanzitutto è die Nacht, di notte si dirà in der Nacht. Questo vale chiaramente anche per le parole composte, quindi se sappiamo che abbiamo am Morgen, sarà anche am Samstag Morgen, e per quanto riguarda i giorni festivi si dirà an Werk Tagen, perché qui è praticamente un plurale, dativo plurale. Poi abbiamo una forma verbiale, basta prendere semplicemente le parole, i sostantivi che abbiamo visto precedentemente, scrivere in minuscolo e mettere la S. Avremo quindi Morgens, che significa jeden Morgen, quindi tutte le mattine. Abends, tutte le sere, jeden Abend, e jede Nacht, natürlich Nachts. Per dire questa sera, questa mattina, non direi, non si dice diesen Abend in tedesco, si dice heute Morgen, per dire questa mattina, heute Abend, questa sera, heute Abend, quindi si usa l'avverbio heute seguito dal sostantivo in maiuscolo, perché è un nome. Per dire domani mattina, diremo Morgen vormittag, oppure Morgen früh, mattina presto, e ieri, ieri sera, gestern Abend. Am si usa anche per i giorni a settimana e per la data, quindi am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, in alcune giorni a Germania, al nord, anche am Sonnabend. Am Sonntag, domenica, am Wochenende, per la data, am Ersten Mai. Si usa anche per queste tre parole, am Anfang, all'inizio, am Ende, alla fine, e am Wochenende. Attenzione, se queste tre parole però sono accompagnate da altri elementi, come per esempio all'inizio della prossima settimana, non si mette am, quindi si dice soltanto, ja, wir treffen uns Anfang nächste Woche. Ende dieses Jahres, Mitte vorigen Jahres, quindi alla fine di quest'anno, o a metà dello scorso anno. Per quanto invece riguarda i mesi e le stagioni, si userà in più dativo, quindi i mesi sono sempre maschili, come pure le stagioni, per cui sarà sempre im. Im Januar, im Februar, im März, im April, im Mai, im Juni, im Juli, im August, im September, im Oktober, im November und im Dezember. Si usa anche per quanto riguarda appunto l'espressione degli anni 50, gli anni 60, 70 del secolo scorso, quindi in den fünzige jahren des letzten Jahrhunderts. Quando invece vogliamo dire nel 2022 in tedesco, non è possibile mettere in o im prima dell'anno. È un errore quindi dire in 2022, bisogna dire 2022 oder im Jahr 2022. Quindi si usa in più dativo anche con le parole Woche, Monat, Jahr e Jahrhundert, quindi per dire questa settimana, si dirà in dieser Woche. Si può anche usar l'accusativo senza in, quindi diese Woche, diesen Monat o in diesem Monat, dieses Jahr o in diesem Jahr. In der vorigen Woche, in der vorigen Woche, settimana precedente, in dem nächsten Monat o in, in dem kommendem Jahr o kommendes Jahr. Si usa anche la preposizione in pudativo con la parola stagione, Jahreszeit, in dieser Jahreszeit, con la parola Nacht, in dieser Nacht, con la parola Minute, Augenblick e Moment, in diesem Moment, in diesem Augenblick. Si usa anche per tradurre fra, quindi se voglio dire oggi, in acht Tagen, heute in acht Tagen, heute in einer Woche. Quindi i tedeschi contano otto giorni, ci vediamo tra quindici giorni, in zwei Wochen. Per tradurre l'espressione al giorno, all'ora, al mese, si dirà anche in più dativo. Si geht dreimal in der Woche in Schwimmbad. Oder si geht dreimal pro Woche in Schwimmbad. Anche in questo caso, con le parole Anfang, Mitte e Ende, seguite da October, eccetera, per dire all'inizio di ottobre, non si metterà la preposizione. Quindi per dire all'inizio di ottobre, si dirà Anfang, October, alla metà di dicembre, Mitte, December, alla fine di gennaio, Ende, Januar. Poi abbiamo due preposizioni con l'accusativo, um più accusativo e gegen più accusativo. Um si usa per indicare l'orario preciso. Wir treffen uns um viertel vor zwölf, um elf uhr fünfundvierzig. E poi abbiamo rum per indicare l'orario prossimativo. Wir treffen uns um elf uhr herum. Wir treffen uns gegen elf uhr. Poi abbiamo in più dativo e nach più dativo. In significa in, fra. Er kommt in zehn Minuten wieder zurück. Quindi ritornerà tra dieci minuti. In questo caso guardiamo avanti. Mentre nell'espressione er wollte in eine Stunde wieder zurück sein, aber kam erst nach fünf Stunden wieder zurück. Ma è tornato indietro soltanto cinque ore dopo. In questo caso si fa praticamente il lavoro inverso. Quindi si guarda e si contano le ore che sono trascorse. In vuol dire tra, mentre nach significa dopo. Entrambe richiedono il dativo. Poi abbiamo for più dativo e seit più dativo. Wir haben uns vor zwei Jahren, il dativo plurale prende quindi la N, kennengelernt. Ci siamo conosciuti due anni fa. Due anni or sono. Herr Arendt ist vor einem Jahr, quindi un anno or sono, un anno fa, nach Canada emigriert. Herr Arendt è emigrato in Canada un anno fa. Sono sempre al passato queste frasi con vor zwei Jahren o vor einem Jahr. Mentre le frasi con seit sono sempre al presente. Quindi wir kennen uns jetzt schon seit zwei Jahren. Ci conosciamo già da due anni. Herr Arendt slept seit einem Jahr in Canada. Indica quindi la durata di una situazione, quindi l'intervallo. Abbiamo poi über più accusativo e bis più accusativo. Wir ruhen uns übers Wochenende, quindi per il fine settimana ci riposiamo. E poi über è anche messa spesso dopo il sostantivo, quindi è spesso, come dice, post-posta. Den ganzen Tag über, però comunque va declinata l'accusativo, habe ich geschlafen, quindi ho dormito per tutto il giorno. Questo è un complemento di tempo continuato. E poi abbiamo bis, che in realtà non si vede l'accusativo perché non si declina il numero. Ich schlafe bis acht Uhr, dormo fino alle otto. Bis morgen habe ich die Arbeit beende. Intro vuol dire anche intro, quindi indica una scadenza, una scadenza temporale. Quindi intro per domani, ho finito il lavoro. L'ultima preposizione che vediamo è zu, più dativo, che si usa per le festività. Quindi per dire a Natale si dirà zu Weihnachten, per dire a Capodanno, zum si declina, zum Neujahr. Natale in realtà non si declina. Per dire a Pasqua, zu Ostern, per dire per il compleanno, zum Geburtstag. In alcune regioni si usa anche, soprattutto in Svizzera e al sud, ma anche in Austria, an Weihnachten, o an Ostern, quindi al posto di zu. Zu è in realtà la variante corretta che si usa soprattutto al nord. Comunque si troverà anche la variante an al sud. Ecco, vediamo ora il complemento di tempo determinato in alcune espressioni. Se io voglio dire il mese scorso, in tedesco, non devo usare l'articolo. Non devo dire quindi den vorigen monad, ma semplicemente vorigen monad. Se voglio dire la settimana prossima, devo dire next walk, quindi senza l'articolo. Se voglio dire l'anno scorso, o l'anno passato, let's see are. Se voglio dire ogni giorno, jeden Tag, tutti i giorni anche jeden Tag, alle Tag. Questo riguarda il tempo determinato. Poi abbiamo il complemento di tempo continuato. Quindi in questo caso bisogna usare l'articolo determinativo seguito dall'accusativo. Ich arbeite den ganzen Tag. Lavoro tutto il giorno, tutta la giornata. Ich arbeite die ganze Nacht. Lavoro tutta la notte. Ich arbeite das ganze Jahr. Quindi tutta la notte e tutto l'anno. Per finire rimane il complemento di tempo indeterminato. In questo caso si userà l'articolo determinativo al genitivo con la S. A tutti i generi. Quindi si dirà eines abends, quindi una sera, eines morgens, un mattino, eines Tages, un giorno, e anche stranamente eines Nachts, che sarebbe una notte. Notte femminile dovrebbe essere einer Nacht, ma in realtà nel tempo indeterminato si usa sempre eines più esse. Quindi eines Nachts sind wir an den See gefahren, siamo andati al lago.